Quarto grado resta il programma del cuore di Salvo Sottile. Il giornalista e conduttore siciliano l'ha dichiarato in un'intervista concessa al settimanale Nuovo TV, in attesa di fare il suo debutto ai fatti vostri dove prenderà il posto di Giancarlo Magalli, Sottile ha ammesso che difficilmente dimenticherà il format di Rete 4 che ha lanciato nel 2010. A detta di Salvo, quella trasmissione è stata cucita addosso a lui, insieme agli autori dell'epoca. Nonostante sia molto affezionato a quarto grado, Salvo Sottile oggi non segue più il programma Mediaset condotto dal 2013 da Gianluigi Nuzzi. Svelato il motivo di questa decisione, non amo voltarmi indietro per me come un vestito usato che ho riposto nell'armadio. Quando passi il programma un'altra persona prende un'altra forma e quarto grado di oggi non è più quello che facevo io. Per questo Salvo ha avvistato tutti che la sua versione dei fatti vostri, in partenza sulle 2 a settembre 2021, sarà molto diversa da quella condotta per anni da Giancarlo Magalli. Sottile però ha voluto chiedere alcuni consigli al suo predecessore e l'ha addirittura invitato in studio come ospite di una delle nuove puntate. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.